ben ritrovati a questo nuovo video nel quale parlo ancora una volta di sicurezza ovvero l'ambito è di nuovo la sicurezza ma in un modo un po particolare questa volta ovvero con uno script che si chiama linis quindi verificheremo con questo script lo stato della sicurezza lo stato del nostro sistema del nostro pc appunto utilizzando questo script che si chiama appunto linis che cos'è linis come appena detto è uno script quindi non è un programma come dire vero proprio compilato con un pacchetto da installare via ppa ovvio avuto software center ma è un punto uno uno script bash quindi come abbiamo imparato a creare anche noi nel corso che ho pubblicato sul mio canale sugli script bash ecco quindi praticamente la stessa cosa è uno script di questo tipo quindi non necessita di combinazione di niente ma semplicemente di un terminale per per essere eseguito è uno script appunto che ha lo scopo è uno strumento di sicurezza che ha lo scopo di controllare lo stato del nostro sistema e ci suggerisce eventualmente se è il caso come ulteriormente consolidarlo laddove dovessero dovesse incontrare questo script del dei punti deboli del nostro sistema linux linis non è uno script fatto da qualche volontario a tempo perso ma è uno strumento professionale vedete qui sullo sfondo il sito del del gestore di questo progetto di chi crea linis e questo sito è è di di un'azienda che crea prodotti per gestire la sicurezza a livello aziendale appunto e linis è semplicemente un modulino uno dei tanti che compongono la suite di prodotti di questa azienda e che è dato a disposizione per un uso gratuito liberamente disponibile per un uso gratuito livello personale ecco è veramente linis è solo un un elemento di tutto l'ingranaggio di questa azienda che crea appunto che gestisce la sicurezza dei sistemi linux quindi noi sfruttiamo il fatto che possiamo usare questo script linis gratuitamente per il nostro uso personale ripeto senza pagare però è uno è uno script professionale e poi vedremo che il fatto di essere uno script professionale e orientato alle aziende ha anche diciamo così una sua conseguenza sono noi lo possiamo usare anche sul nostro pc domestico però poi vedremo una nota sotto che spiego il perché quale tra virgolette conseguenza ha questo questo questa situazione ecco dell'origine di linis aziendale più che altro qui lascio come quasi sempre faccio dei dei link di documentazione o comunque via dei link documentativi e anche per scaricare linis stesso dal sito qui ho già nello sfondo del video la pagina proprio di download dello script eccolo qua linis col suo link di download vedete qua vedete proprio giusto per chiudere la parentesi commerciale o meno vedete che linis in quanto tale il modulino lo script che noi andremo ad usare è liberamente scaricabile mentre vedete per esempio che linis collector è a una licenza commerciale mentre questa una licenza gpl quindi open source a codice aperto libero e invece già un altro modulo che si chiama linis collector una licenza commerciale bisogna entrare connettersi col sito qua aziendale per poter accedere ed avere a disposizione quest'altro modo quindi vedete quello che dicevo poc'anzi che proprio questa è un ambito aziendale con un modulo a disposizione per tutti ecco e trattandosi appunto di uno script bash non necessita come ho detto all'inizio del video di nessuna installazione basta scaricarlo l'archivio che contiene lo script decomprimere questo archivio e verrà creata una cartella con dentro tutto quanto serve appunto a questo script linis per funzionare quindi schiacciate qui già schiacciate fate click sul link download voi vi ritrovate nella vostra cartella scaricati l'archivio compresso linis fate tasto destro estrai qui adesso io non lo faccio perché l'ho già fatto evidentemente estrai qui e se non spostate l'archivio compresso sempre nella cartella scaricati ritrovate la sottocartella linis con la sua versione e le varie cartelle sottocartelle che servono allo script questo è il modulo linis nella sua interezza che poi noi useremo da terminale come si fa una volta preparata appunto decompresso l'archivio noi possiamo andare al nostro fedele terminale e posizionarci nella cartella di dove si trova lo script quella che abbiamo appena creato decomprimendo l'archivio compresso quindi cominciamo a posizionarci nella cartella scaricati nel nostro caso è scaricati e linis credo fosse minuscolo eccolo qua ok linis e siamo dentro qui abbiamo i nostri componenti sotto cartelle file dello script linis poi per eseguire linis abbiamo bisogno vediamo se magari devo dirvi qualcosa per ecco magari perché no come sempre anche con i vari comandi a terminale anche linis ha il suo manuale con le istruzioni d'uso che si usa sempre con il solito man quindi vediamo se faccio questo comando man punto slash linis si può vedete lo crea già lui quindi man questa forma e si apre il solito manuale cioè l'applicazione il comando da terminale per leggere i manuali quindi la documentazione dei vari comandi si apre appunto per linis vedete qua il manuale di linis con le varie opzioni e cosa potete usare per usare linis potete leggervi tranquillamente se vi interessa comunque per uscire da questa modalità come sempre da questa modalità come sempre si preme il tasto q e voilà che ci ritroviamo di nuovo nel terminale torniamo su e come facciamo partire linis ci sono varie opzioni appunto per usare linis però quella più completa noi vedremo subito quella più completa perché non per i tempi del video un po perché non possiamo permetterci di passare tutte le opzioni che chiunque di voi sia interessato a questo ambito può farle passare a una una tranquillamente noi andiamo subito al sodo usando l'opzione meno c per il comando quella qui meno c vuol dire proprio completo cioè linis che ci faccia tutto quello che sa fare quindi davanti si antepone sudo ovvero la clausola il comando che fa eseguire lo script in modalità route amministratore perché essendo un comando che deve verificare tutte le parti del sistema per la sicurezza ha bisogno di accedere anche in parti di sistema non consentite dalla user normale di utilizzo della nostra user quindi ha bisogno di essere eseguito come utente amministratore è questo script quindi noi facciamo un bel sudo proprio come scritto qua e potrei fare anche copia e incolla ma lo scrivo così vedete com'è sudo puntino barra che vuol dire esegui in questa stessa cartella lo script che ti indico ovvero linis meno c con la sua opzione meno c facciamo enter ovviamente ci chiede la password adesso come sempre spero di non sbagliarla durante la registrazione del video o perfetto voilà allora vedete che lui dice sono linis alla versione 141 e sono in esecuzione linis eccetera eccetera avvisi di free software di licenze di codice aperto come sempre che ogni software a codice aperto arriva viene consegnato senza garanzia di funzionamento eccetera eccetera qui si dice si cita il copyright chi ha fatto questo script il sito della ditta qui che gestisce appunto la sicurezza di livello aziendale eccetera eccetera enterprise support eccetera eccetera via e via voilà questa è comunque introduzione e poi inizia ad apparire qualcosa ecco durante l'esecuzione del comando torniamo alla nostra scaletta si vedono nel terminale i messaggi dei vari test eseguiti uno dopo l'altro perché appunto lo scopo di questo script linis è eseguire dei test per poi stabilire se la sicurezza è buona o meno del nostro sistema ecco in sostanza quindi la prima parte comunque è di inizializzazione dice ok determino di quale sistema operativo si tratta pulisco i log che poi scriverò durante l'esecuzione perché il risultato di linis sarà scritto in un paio di file di testo praticamente e qui vedete appunto i dettagli lui dice ok vedo che un sistema linux di tipo ubuntu 1204 il kernel è questo piattaforma 64 bit bla 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 e poi lui dice scriverò i miei risultati e quanto sto facendo in questo giornale linis punto log in questa cartella var log e il rapporto del lavoro che farò durante l'esecuzione in questo altro file e poi si ferma e dice premi enter per continuare o ctrl c per fermarti quindi in qualsiasi momento se siete stufi o se non vi interessa andare avanti potete premere ctrl c e linis termina se no premete enter per il prossimo passo i primi test che linis farà eccetera eccetera e facciamo pure enter per fare un passo avanti ecco qua beh come prima cosa diciamo che non è obbligatorio che esca però cosa mi dice vedete mi dice che c'è un aggiornamento disponibile per linis stesso ecco fosse stata l'ultima versione quella che sto eseguendo questa parte non sarebbe uscita in realtà lui mi dice guarda che c'è un update disponibile per linis tu stai usando la 141 di versione 141 e c'è già la 145 disponibile infatti mi sembra di aver visto sul sito eccolo qua vedete la 145 quindi volendo usare linis all'ultimissima versione dovrei scaricarmelo riestrarre l'archivio compresso e far partire l'ultima versione però poco importa per questo video almeno diciamo ne ho approfittato non tutti i mali vengono per nuocere per mostrarvi che linis controlla anche se stesso se state usando l'ultima versione chiar scusate chiaramente essendo uno script che controlla la sicurezza del sistema diciamolo subito è indispensabile che usiate l'ultima versione è quello che sto facendo io non è proprio una buona pratica diciamo che per motivi didattici e dimostrativi a me sta bene in questo momento usare una versione più vecchia dell'ultima ma è bene in questo ambito di sicurezza usare sempre l'ultima versione la più aggiornata che potrebbe anche contenere test più approfonditi completi corretti eccetera eccetera quindi non non fate quello che sto facendo io in poche parole ma se riesce questo questa indicazione fermate con contro c lo script scaricate l'ultima versione e ricominciate io vado avanti appunto perché sto semplicemente mostrandovi cosa vuol dire usare linis non ha importanza se sia l'ultima versione o no però per voi se lo usate sul serio mi raccomando basatevi sempre sull'ultima versione disponibile allora va beh a parte questo stavo dicendo che ad ogni test fatto la mia scaletta qui recita che ci sono delle dei colori dei messaggi da interpretare ovvero se l'esito di un test è positivo quindi il nostro sistema è sicuro e tutto posto viene scritto segnalato in verde solitamente tipo questo è per esempio questo qui è scritto in verdino l'ultima versione di linis mentre se c'è un avviso un suggerimento è in giallo addirittura in rosso se la cosa è un po più grave vedete che in giallo è un warning quindi un avviso guarda che c'è un update disponibile in effetti è scritto in giallo e la mia versione che è vecchia è scritta in giallo e quindi vedete che la gestione dei colori ha questo senso quindi in verde sarebbe la versione ottimale l'ultima attenzione giallina perché non sta usando l'ultima ecco e man mano che andiamo avanti nei test questi sono i colori che devono colpire i nostri occhi se in più il nostro sistema non possiede alcune caratteristiche previste dai test non lo so una parte hardware o qualsiasi cosa che linis ha incluso come test ma non riconosce presente nel nostro sistema viene semplicemente indicato come bianco è saltato il test viene bypassato e si va avanti e e quindi andiamo avanti appunto cominciamo facciamo enter per andare avanti vedete che qui sta eseguendo dei test ok vedete di nuovo i colori e quindi ha fatto dei test dei plugin di linis immagino che linis a livello aziendale quando si paga ci sono anche dei plugin che lo aggiungano dei test o roba del genere questo è un linis di base senza plugin vedete che è scritto in bianco perché non riconosce la presenza di plugin per linis in quanto tale quindi è bianca la scritta niente poi un primo test prevede di verificare se ci sono dei tool di sistema o delle cartelle specifiche di sistema vedete che verifica ciò che c'è e trova le varie cartelle tipiche di sistema dove ci sono gli eseguibili i programmi eccetera eccetera vedete che in verde perché li ha trovati e in bianco ciò che non trovo quindi io non ho cartelle di questo tipo nel mio sistema ecco andiamo avanti è abbastanza lunga la cosa è adesso qui vi mostro magari non so se vale la pena andare fino in fondo perché è abbastanza lunga la cosa i test sono tanti diversi e man mano appunto vedete che linis fa dei test per ogni categoria di parti del sistema che interessano ecco qui si sta parlando di boot ovvero della partenza del pc e servizi vari presenti per esempio noi sappiamo che il nostro sistema operativo ubuntu si basa su group 2 per la partenza del dei sistemi operativi presenti sul pc in effetti vedete che marca in verde trovato found group 2 non usa invece l'ilo che è l'alternativa group oppure silo credo sia un'altra alternativa vedete non lo trovo perché in effetti non è non è installato e nemmeno gli abut eccetera eccetera poi verifica i servizi della partenza del pc eccetera eccetera dice fatto perfetto i file ci sono 17 servizi disponibili in questo ambito e il file di partenza sono tutto a posto che è insomma ecco ripeto questo linis è uno strumento professionale ed ha anche delle informazioni come vedete piuttosto tecniche mi rendo conto che per un canale come quello che voglio che sia il mio canale quindi alla portata di tutti diranno poco niente o saranno abbastanza creeranno piuttosto confusione tutte queste informazioni scritte in inglese tecniche non vi diranno niente mettiamola così se vedete qualcosa di giallo o di verde dateci un'occhiata più che tutto il resto quindi di giallo di rosso volevo dire ecco se vedete bianco o verde non è necessario star lì a capire cosa vuol dire cosa non vuol dire vuol dire che va bene punto e basta è andata avanti fate enter eccetera eccetera ed è qui finché appare il verde direi andiamo avanti qui sta ancora facendo i suoi test ecco intanto che voilà ha fatto i suoi test vedete verde quindi andiamo benissimo ho fatto un enter dove non dovevo voilà quindi finché verde direi visto che anche piuttosto complessa la cosa è ed è dedicata a amministratori di sistema sistemisti e professionisti queste cose per loro sono pane quotidiano per noi no però laddove verde andiamo sul tranquillo comunque quindi ecco qua comincia ad apparire qualcosa di giallino ma è meglio che a questo punto vi parli di questa nota che mi sono messo in scaletta attenzione perché essendo un prodotto professionale e dedicato agli amministratori di sistema e include anche dei test che hanno a che fare più con i server che con i pc domestici quindi linis non è che distingue se sta funzionando su un semplice pc domestico su un server aziendale quindi i test sono sempre quelli e non è detto che ciò che appare in giallo o magari in rosso abbia necessariamente a che fare con il nostro pc domestico e quindi queste informazioni che vedete in giallo non è detto che siano delle debolezze del mio sistema perché quasi sicuramente hanno a che fare con l'ambito server più che appunto di un semplice pc domestico ecco quindi non preoccupatevi comunque non è detto che dobbiate preoccuparvi o concentrarvi necessariamente su una voce che appare in giallo per esempio qui come suggerimento dicono di verificare di mettere di aggiungere al proprio sistema magari degli strumenti per verificare quanto sia forte una password o meno ecco insomma per il vostro pc personale può essere più o meno utile è un suggerimento comunque niente di grave eccetera eccetera ecco vedete che linis funziona tutto così fino alla fine fa i suoi test che appunto spaziano su tutti i tipi di macchine quindi non è dedicato al pc domestico non è dedicato solo al server ma i test sono ad ampio raggio ecco ecco vedete qui dice un altro suggerimento è mettere la cartella temporanea se ho ben capito su un suo punto di montaggio e non inclusa assieme alla home ecco noi tipicamente il nostro pc con installazione base di ubuntu va tutto in una partizione sola qui probabilmente per i server è meglio mettere su partizioni diverse non so adesso qui sto andando un po' intuito è secondo il messaggio che esce qui però appunto niente di importante per il nostro livello di utilizzo del nostro pc quindi quasi va avanti andiamo pure avanti con i vari messaggi non so quanto manchi se vale la pena andare fino in fondo comunque ecco è importante appunto sempre tenere presente che non necessariamente ciò che è indicato in giallo o eventualmente in rosso il rosso non ho mai viste eventualmente in rosso sono necessariamente delle debolezze del nostro sistema o che bisogna far qualcosa ecco qui metto anche un esempio quindi aspettiamo che arrivi al termine spero non ci metta troppo vediamo un po sta controllando tutti i pacchetti installati voilà qui sta controllando la parte di rete vedete che comunque server o non server un sistema linux è fondamentalmente di base sicuro è vedete che comunque la maggior parte dei test tornano delle scritte verdi e questo è significativo come potete vedere significativo perché appunto si va sempre ripetendo che i sistemi linux sono fondamentalmente sicuri o più sicuri di altri e anche questo ulteriore test con linux ci mostra che la maggior parte delle scritte se non quasi tutte o tutte quelle che interessano un semplice pc domestico sono comunque in verdi è in verde quindi vedete che ecco ecco qui è l'esempio banner sent identification questo parte di test l'esempio che ho citato qui nella mia scaletta che riguarda tipicamente i server qui indica in giallo debole cioè che questo punto è debole fosse un server sarebbe un punto debole del sistema ma siccome il mio pc non è un server va benissimo così non è un server web quindi non ci importa quello che ci indica come debole per il tutto il resto è o non trova o è verde quindi vedete che va benissimo ecco vedete criptografia virtualizzazione qui sono ambiti server che riguardano ben poco il nostro sistema pc quindi qui ogni ente c'è anche un'opzione per evitare di dover fare enter e fare andare linux da cima a fondo e se voi guardate nel manuale di linux c'è un'opzione che adesso non ricordo a mente ma vi permette di evitare tutte queste interruzioni volendo e farlo scorrere tutto assieme però ovviamente per dimostrazione in questo video vale la pena che si fermi ad ogni dopo ogni test ovviamente ecco il kernel vedete che ci sono le varie parti ok altre sono scritte in rosso differente però moduli del kernel noi sappiamo che un kernel nostro per preconfezionato da canonical che funziona benissimo queste qui saranno parti che magari hanno che fare con le reti quindi più per i server porta poco andiamo avanti ecco qua ho è finito bene alla fine punto l'ultimo punto della mia scaletta credo al termine dell'esecuzione viene visualizzato uno schema riassuntivo dei suggerimenti la statistica di elaborazione ecco vedete che qui tutti i test sono stati fatti 149 test da questa versione di linux vedete qua 149 test tutti i test sono ok scritto in verde quindi ottimo pollice in su i suggerimenti che ripeto sono da valutare io non pretendo che l'utente comune come siamo noi sappia valutare tutte queste scritte in nostro goto però chi se ne intende un po di più potrebbe anche darci un'occhiata più da vicino sono i suggerimenti però appunto come ho detto prima potrebbero essere anche tutti i suggerimenti che riguardano più server che non pc domestici però ecco qui raggruppa tutti i giallini che abbiamo visto durante i test poi qui dice ecco i risultati te li ritrovi in questi due file che tra un attimo andiamo a vedere dice ci riavvisa un'altra volta che linux deve essere aggiornato qui dice e qui dice niente cioè qui ok è finito praticamente quello che ci interessa è finito uno schema riassuntivo finale una statistica finale dell'esecuzione quello che importa che tutti i test siano andati bene in quanto tali e che non ci siano scritte gialle o rosse che ci debbano preoccupare particolarmente quindi è vero che ci sono queste rosse per i kernel come ho detto però possono riguardare voci che riguardano più i server le reti eccetera eccetera ecco che non riguardano necessariamente il nostro sistema di pc personale ecco come ultima cosa siccome linux lavora come con utente amministratore questi file quelli risultato questi due var log linux log var log linux report dat non li possiamo vedere andare direttamente col file manager come user normale a vederli perché non riusciamo ad aprirli dobbiamo entrare con l'editor di testo il nostro gedit come amministratore a sua volta per poter leggere questi file come si fa ne approfitto ne approfitto per mostrarvelo nel nostro sistema ubuntu con interfaccia unity possiamo usare la scorciatoia alt f2 per aprire la dash cerchiamo gk sudo che è la piccola interfaccia grafica che ci permette di avviare dei comandi come amministratore quindi cerchiamo gk ops sudo facciamo partire gk sudo vedete che si apre questa finestrellina che ci dice ok voglio farti partire un comando come root quindi come amministratore noi facciamo partire una versione un'istanza del nostro editor di testo come amministratore quindi gedit il nostro editor di testo classico di ubuntu gedit si chiama così qui scriviamo gedit come root enter ci chiederà ovviamente la nostra password amministrativa ecco qua abbiamo aperto il nostro classico editor di testo gedit come amministratore andiamo a cercare quei due file qui giusto per vedere che si aprono e quindi il log quindi il giornale delle operazioni fatte dallo script var log linys log andiamo ad aprirlo file system var log cerchiamo linys log eccolo qua uno è questo quindi apri questo non c'entra documento senza titolo non c'entra niente questo qui già che ci siamo apriamo anche l'altro che è il rapporto dei test praticamente quindi siamo già qui andiamo a cercare linys report.dat che è l'altro file di testo ecco qua quindi il log è come dico il giornale delle operazioni fatte dallo script quindi quello che ha trovato quello che ha fatto i vari test cosa ha fatto nei vari cento e passa test con l'orario e tutto vedete con l'ora minuti che passavano man mano che io facevo enter e alla fine vedete i test fatti 149 su 275 vuol dire che alcuni test non aveva senso farli quindi li ha saltati non li ha fatti eccetera 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 mentre l'altro file contiene appunto il rapporto di esecuzione con i dettagli sul sistema operativo sul quale è stato eseguito l'inis il bull loader group 2 qui tutti i dettagli dei vari test fatti con i vari suggerimenti per migliorare la sicurezza ripeto la maggior parte dei messaggi sono più per server che non per il nostro pc domestico da quello che ho visto io avendo usato praticamente per due anni Ubuntu 12.04 senza mai aver usato uno script come questo dopo due anni senza aver mai badato più di tanto queste cose ho usato lo script non è uscito niente di giallo di rosso che fosse preoccupante quindi si dimostra comunque ancora una volta che i sistemi linux sono sicuri e ben impostati di base già alla partenza e non dobbiamo preoccuparci più di tanto però ecco usare uno script come questo una volta vi permette comunque di vedere con i vostri occhi che in effetti è così che non sono solo parole che si dicono perché abitudine dire che linux è più sicuro ma in effetti si dimostra che è la realtà ecco e voilà questi qui sono tutti i dettagli dei test insomma roba molto tecnica della verità però a chi interessa e chi è magari del mestiere può approfittarne e scavare in queste informazioni ecco con questo concluso anche questo video sullo script linux che ci permette di verificare lo stato l'impostazione del nostro sistema di quanto sia sicuro se ci sono dei punti particolarmente deboli o meno mi rendo conto che siamo un po' al limite per il livello del nostro canale con un tema come questo però ecco ho preferito comunque mostrarvelo per conoscenza e spero che comunque vi sia risultato interessante anche questo video con questo vi saluto ciao ciao e alla prossima